benvenuti alla resegna stampa di oggi venerdì 28 di luglio tra una cosa e l'altra siamo arrivati quasi ormai anche alla fine di questo mese e questa è fano tv sul canale 17 tra poco daremo uno sguardo ai quotidiani il resto del carino il corredo riatico con le notizie prevalentemente di pesaro fano e della provincia dunque pesarese allora andiamo subito però vedere il calendario con il santo del giorno oggi la chiesa ricorda i santi nazaro e celso sono stati martiri il sole è sorto alle 5 52 e tramonterà alle 20 e 37 minuti andiamo a vedere subito il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi dalla protezione civile delle marche questo è il bollettino per venerdì 28 avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento ancora i 20 con il mare quasi calmo poco mosso nel primo pomeriggio domani ancora nuvolosità con cielo sereno poco nuvoloso possibili brevi rovesci sui sibillini nel pomeriggio e le temperature sono stazionarie o in lieve aumento continuerà a soffiare il vento il mare sarà poco mosso nel primo pomeriggio c'è tempo brutto invece domenica ma limitatamente alle zone interne vedete le zone montane dalla tarda mattinata avranno rovescio temporali sparsi parzialmente in estensione anche verso la fascia collinare nel corso il pomeriggio i venti sono di brezza leggera il mare quasi calmo poco mosso mentre il tempo sarà buono e le temperature ancora in rialzo per l'inizio della prossima settimana le ultimissime in diretta dalla spiaggia di sassoni di fano dove il nostro un nostro reporter di strada ci ha inviato questa fotografia che ci fa vedere praticamente come questa scultura scultura dedicata alla marineria vedete è stata riposizionata dopo un restauro per diversi mesi lì c'era soltanto uno scoglio con la dedica con il messaggio oggi questa mattina dieci minuti fa è arrivata questa fotografia sulla pagina facebook di reporter di strada la nostra pagina dedicata a voi segnalatori ebbene che ci mostra che lo stanno riposizionando grazie dunque ai nostri reporter state svolgendo un lavoro straordinario che naturalmente non serve soltanto alla nostra redazione ma alla collettività perché noi siamo qua per informarvi e allora cominciamo con l'informazione dei giornali e partiamo dal resto del carlino questa è la prima pagina a centro pagina la fotonotizia è sulla guerra del microscopio vaccini e ricerche è a pesaro la ferrari delle nanoparticelle regalata da grillo polemiche e querele sopra la cronaca schianto in scooter all'incrocio grave una ragazza di 22 anni un grave incidente contro un'auto l'altra notte a pesaro l'intersezione della madonnina di muraglia è pericolosa ad ogni ora un pesante bilancio un altro conducente di moto travolto invece nella zona del mare sotto invece l'imprenditore finito nei guai per la ricostruzione del terremoto lancia chiesta la scarcerazione per lui spunta la cena con ceriscioli dalle intercettazioni un incontro con il governatore la pagina del correo adriatico invece in apertura è il palazzo di vetro di pesaro che va all'asta sei piani di storia a 4 milioni fu cuore pulsante e simbolo della democrazia cristiana all'interno maxi restyling privato mai terminato e a centro pagina la fotografia per il palio delle contrade che il palio scusate dei braceri sfilano le contrade ma il corteo è ridotto su richiesta della prefettura pesarese domenica i punti di raccordo saranno piazzale primo maggio il san decenzio le disposizioni sulla sicurezza riguardano anche il palio la pagina di fano invece del resto del carlino racconta il lavoro di una donna che fa un lavoro particolare perché solitamente quando parliamo di un comandante di pescherecci parliamo di di uomini invece in questo caso il carlino questa mattina ci presenta elisa palazzi che è una ragazza di 27 anni di fanese e da cinque anni guida la lord emilton ormeggiata al porto di senigallia la sua è una famiglia di pescatori il padre paolo palazzi con i due figli che hanno scelto di lavorare in mare qui a fianco una foto di facebook comandante elisa questo il titolo la vongolara è sua unica donna in italia al timone di quel tipo di scafo con lei equipaggio appunto di due persone è una storia che tra l'altro ha trattato anche la televisione la rai nei giorni nei giorni scorsi proprio presentando elisa sulla sua vongolara e lei dice avevo 17 anni ero a pescare con mio padre ho deciso che quello era il mio futuro la pagina di fano invece del corriere adriatico e sull'aeroporto statuto al veleno l'opposizione esce dall'aula consigliare modifica propedeutica al ripienamento dei debiti 434 mila euro scintille sugli atti mancanti utili al voto per udc progetto fano e la tua fano tra vizie e regolarità dicono si è messa una pietra tombale la festa del del loca borgo cavur sempre dalla pagina di fano del carlino tradizione piatti tipici per tornare al bel tempo che fu oggi il via dalle 19 ci sono anche i giochi per bambini e vedete due immagini due momenti di questa festa in pieno centro a fano con le tagliatelle sulla sinistra vedete centro pagina poi alcune partecipanti e sotto borgo cavur illuminato a festa e allora la cronaca da marotta attenzione alle truffe lo diciamo sempre e qual è la truffa che ci che ci fa vedere questa mattina che ci presenta questa mattina il resto del carlino la firma di sandro franceschetti ebbene la truffa è quella della gomma sgonfia come funziona voi andate per esempio al supermercato a fare la spesa quando uscite nel parcheggio trovate la macchina con un pneumatico praticamente completamente a terra ora poiché in quelle condizioni non potete certamente partire cosa fate vi mettete al lavoro per sostituire la ruota ma mentre armeggiate con chiavi cric eccetera eccetera attenzione perché c'è qualcuno lì pronto a rubarvi per esempio il borsello con dentro il portafogli che voi avete appoggiato sul sedile siccome fa anche caldo diventa ancora più facile perché probabilmente ci sono i finestrini abbassati eccetera eccetera giombetti qua ricostruisce praticamente tutta tutta la scena quindi arriva questo truffaldino che vi buca la gomma ecco vedete col cacciavite voi uscite vedete la gomma a terra vi mettete a ripararla ma c'è il truffaldino il ladro che zack vi porta via il borsello con dentro i soldi l'ambito territoriale occupa la pagina 13 del carlino il nuovo ambito va spedito è stato presentato il bilancio delle attività dei primi sei mesi da gennaio a giugno di questa nuova gestione tra le novità la disponibilità di un milione 350 mila euro di risorse europee che serviranno per esempio per incrementare il personale quattro assistenti sociali in più e due tutor per seguire gli inserimenti lavorativi frontone l'epopea svedese è un bell'articolo di Mario Carnali che ricorda gli anni 60 quando frotte di ragazze arrivavano dalla Svezia allora si parte da un fanese un fanese che non c'è più Dandolo Vitali il cognome è famoso perché ricorda le autolinee vitali infatti Dandolo Vitali era il titolare dell'omonima ditta di autolinee di Fano che aprì a metà degli anni 60 il tipico ristorante Taverna della Rocca che venne poi gestito per alcuni anni dal 66 dalle famiglie Pavoni e Pedana ebbene lui con le sue corriere portava su tutta questa gente dalla costa al ristorante e per diverso tempo l'appuntamento era proprio in questo ristorante dove si mangiavano le tagliatelle le carne poi si ballava insomma e frontone era popolata da queste donne e figuratevi voi poi tutti quelli che stanno attorno ai paesi attorno quando sapevano che arrivavano queste belle donne svedesi da vicino a Cagli, Pergole eccetera tutti i ragazzi e tutti i giovani, i baldigiovani andavano alla conquista di queste svedesi ora purtroppo le svedesi non ci sono più Chiarabilli siamo a Fossombrone invece sempre sulla stessa pagina parliamo di commercio all'attacco negozi in ritirata e giunta inerme e qui si fa il saldo tra aperture e chiusure dei negozi di corso Garibaldi a Fossombrone al 31 dicembre del 2016 era a meno 1 insomma professione quasi impercettibile a Urbino dalla pagina del Carlino Sgarbi attenta Crispini, Crispini non puoi fare di testa tua il caso della festa del Duca avrebbe bypassato il comune l'assessore critica l'indifferenza per le mostre e poi sempre da Urbino invece il Corriere festa dell'unità, festa dell'unità alla data il PD lancia la sfida a Sgarbi da oggi fino a domenica 30 una serie di dibattiti e iniziative a Borgo Mercatale andiamo sull'altra pagina torniamo sulla pagina di Fano siamo sul Corriere Paese dei Balocchi 2017 ecco chi è il nuovo sindaco della manifestazione Silvestro Montanaro che è un reporter e scrittore impegnato e aiuterà a raccontare il sogno dalla Valle del Cesano la viabilità è sconnessa, è dissestata e dunque bisogna intervenire l'osservatorio cittadino incalza la provincia per sistemare le strade di terre roveresche sempre dalla Valle del Cesano danni nel nuovo giardino di Pergola siamo stati noi disponibili a pagare un gruppo di ragazzi domenica notte hanno fatto questo danno tre giorni dopo mercoledì mattina hanno ammesso le loro responsabilità alcuni ventenni si sono presentati l'altro giorno all'ufficio di Polizia Municipale di Pergola ammettendo di essere stati gli autori di questi danni causati ai giardini storici recentemente ristrutturati e riqualificati dalla giunta Baldelli da Senigallia invece il mio negozio prigioniero delle transenne per il Giamborì passaggio vietato ai pedoni bottega off limits con il giro di vite per la sicurezza l'ingresso è chiuso la commerciante dice io qui non lavoro più mi viene da piangere ecco qua la via la transenna che chiude a Senigallia via dei commercianti sequestrate le auto ai capi del rave siamo ad Apecchio sapete l'altro qualche giorno fa c'è stato un rave party tra i boschi ebbene le auto di questi capi degli organizzatori sono state sequestrate ne progettavano un altro in Toscana i mezzi scortati ad Acqualagna e poi controllati un incontro del prefetto mai più una cosa del genere chiudiamo con la pagina di Osimo per raccontarvi di questa storia purtroppo triste i ladri senza cuori sulla tomba di Dino in fuga con i ricordi portati dal nipote a Chieti rubati due modellini accanto alla lapide del poliziotto morto sotto la valanga dell'hotel di Rigopiano con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi ricordo il numero di telefono che vedete in sovrimpressione il numero al quale potete inviare le vostre segnalazioni sempre importantissime per noi e per la nostra redazione grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale grazie per averci seguito